ah raga guardate che spettacolo questo dolce mi ha fatto fare straordinaria settimana passata allora è di base l'involucro è lo stesso del bignè che preparo di solito ma viene aggiunta un disco prima del cioccolato che a base di biscotto che insieme alla cottura nel forno sciogliendosi da una crosta a sapore di biscotto poi il dolce prosegue il suo cammino in un nastro e poi viene riempito con una crema che se andiamo a tagliare andiamo a vedere al cioccolato finito questa procedura viene passato in una macchina che fa una piccola cascata di cioccolato cioè questo qua il nastro cammina e dolce passa e si cospaggia il cioccolato da parte dall'altra parte viene raffreddato e convenzionato questi sono quei dolci speciali che durano un paio di settimane che si chiama cavalli san valentino cioè tutto quello che riguarda cioccolato e gettonato non so se a se lo stanno facendo perché probabilmente alcune zone cambiano non sono sicuro se tutti i dolci sono ovunque comunque se chi vive a tokyo se me lo può confermare andiamo a fare il taglio e poi si presenta all'interno queste cose sempre pieni 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 questa crema dolcissima raga è dolce proprio dolce la cosa che cioccolato arriva in fabbrica a pezzi c'è un macchinaio che lo fa a pello tritura e poi viene inserito nell'impasto con la crema come spettacolare anche perché si conserva anche questa crosta lo so che vi piacciono i dolci raga e io ogni volta che c'è una novità in fabbrica vi rendo partecipi allora il dolce venduto a 150 yen siamo poco sopra un euro ma dovete capire che dentro c'è pieno 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 di crema pieno poi hanno fatto sta cosa a doppio cioccolato vai non è troppo buono ragazzi stiamo preparando un poato credo più di 25 mila pezzi non abbiamo cominciato il giorno abbiamo cominciato a fatto un turno al 7 di mattina abbiamo fatto prima quelli normali e poi abbiamo cominciato a fare l'ordine che erano circa 45 mix per dire calcolate che ogni media se ne fanno tre impasti a ora io ho staccato alle 6 e un quarto il ragazzo mi ha dato il cambio l'ho ritrovato la mattina dopo che ho riattaccato alle 7 in fabbrica c'è l'ordine è stato così tanto grande che lui non ha finito non ha dovuto fare oltre c'è stato in fabbrica 13 ore per poter finire l'ordine che poi ci sono quattro dolce prepariamo cioè logicamente bisogna andare scaglioni e ha finito che questo ha preso gran parte della giornata quasi dieci ore di dove il forno non si è mai fermato dove per una parte è stato convenzionato nel laboratorio accanto al mio e per l'altra parte è stato spostato ad un altro piano dove hanno continuato un altro gruppo che poi attaccano alle 6 e fanno il turno di notte per poter garantire che questo dolce poteva arrivare a tutti i 7 in 11 nella prefettura di Miyagi lavoriamo per l'intera prefettura non lavoriamo solo per 2 o 3 o 20 7 in 11 lavoriamo per tutti i 7 in 11 della prefettura Miyagi cioè dove arriva l'ordine viene mandato e viene proprio fatta la produzione in base all'ordine che riceviamo vi porto queste chicche perché lavorando dentro questo sistema dei dolci in giappone per i combini posso darvi qualcosa che non è semplice mangiare dire sì è dolce o sì c'è cioccolato dentro ma devi qualche chicca in più su come viene preparato non spero di riuscire a mettere le mani stanno preparando uno sbaglio di tiramisù la cosa è che per impiegare per lavorarlo cioè per la preparazione viene fatto totalmente a mano l'assemblamento del tiramisù logicamente parliamo che non è una visione italiana cioè è una visione giapponese per combini cioè molto più semplice cioè il saoiardo non lo trovate in giappone già lo dico prima però mi colpisce il fatto che vengono impiegate un numero spropositato di persone perché ognuno inserisce qualcosa nel contenitore queste porzioni è spettacolare vederli che tutti sa che apposce una ventina di persone per per rullo convenzionano meccanicamente questo dolce che è sempre per rispettare che i giapponesi sono un credono che è un dolce più lavorato logicamente la mano dell'uomo e non quella della macchina più la persona lo può assaggiare si sente come se è fatto in casa anche se la produzione è in fabbrica ecco perché vi dico che 7-11 cambiano da paese in paese cioè quello giapponese è totalmente diverso da quello inglese, da quello americano, da quello tailandese è totalmente un altro discorso, totalmente diverso qua c'è una mentalità che dove i giapponesi fanno un uso dei compini in maniera giornaliera perché con il lavoro, quanto volte vedete pure voi quando torno a casa i treni sono pieni salarimen alle 7-8 di sera è normale che quei salarimen, una pausa, questa la mattina è una buona pausa perché ti riempie, perché comunque c'è tanta crema è sostanzioso per un giapponese forse per me che sono goloso o per un italiano che in vacanza fosse due di questi forse basta una riempì ma fatemi sapere se vi piace il dolce e vi porterò altri video condividete, commentate e grazie per essere su questo canale e per partecipare e donarmi il tempo dedicarvi il vostro tempo grazie raga, un bacio grazie a tutti